La mail è quella di Enrico che dice Domenica abbiamo visto insieme Juventus di Nese, in effetti è un mio amico, e dice abbiamo purtroppo commentato negativamente un'altra prova opaca di Marchisio. Certo, gli emerge parlato. Purtroppo fa male doverlo dire perché è uno di quei calciatori che ha riportato la Juve in A dall'inferno della Serie B e negli ultimi due anni ha dimostrato tutto il suo valore. Forse il calciatore è preoccupato per un rinnovo del contratto in grado di assicurargli uno stipendio più consono al suo valore ideale? Già nell'ultima campagna acquisti ci sono state troppe voci e forse anche troppe tentazioni ben più allettanti per lui dal punto di vista economico. Possumi dell'ultimo infortunio o testa altrove? Un saluto ai telespettatori e agli ospiti in studio e a tutti gli amici di Via Filadelfi 88, che è un gruppo Facebook del quale facciamo parte entrambi. Grazie Enrico. Qui ci scrive da Caserta. Certo, vedi di Marchisio abbiamo parlato più volte. Se si sapesse il perché gioca a livelli inferiori rispetto a quelli a cui eravamo abituati, primo per tutti Conte lo sistemerebbe diciamo in un certo senso, lo farebbe tornare ai suoi livelli standard. È un'operazione, come posso dire, di regredimento. Questo ragazzo è nato qui, è stato credo sia settimo, ottava stagione che ha la Juve pur avendo solo 27 anni. È inspiegabile questo fatto. L'unica cosa che si può supporre è che l'arrivo di giocatori che hanno più vetrina, più faretti addosso di lui, faccio per dire Vidal oppure Pogba o lo stesso Pirlo, lo abbiano un pochino come posso dire fatto intristire e le sue prestazioni come posso dire ne risentono. Ecco, però adesso ha l'occasione, mi pare un piatto d'argento, a Pirlo è fuori per motivi fisici. Il posto titolare è suo. Certo. Ha come minimo tre o quattro partite e partite determinanti per dimostrare di essere sempre il giocatore che tutti quanti noi conosciamo, che gli inserimenti, questi gol è una vita che non segna, per cui voglio dire è il suo momento, se ci sei come si dice, batti un colpo. Certo, stavo guardando allora Marchisio ha giocato nel giovanili dal 93 al 2006 poi prima squadra dal 2006-2007, 2007-2008 in prestito a Empoli e poi dal 2008 che è qui. Quindi effettivamente lui è proprio la bandiera, no? È una bandiera. Certo, certo. È nato qui, ha giocato nella primavera della Juve, me lo ricordo. Cioè, voglio dire è un giocatore che sarebbe perfetto. Ecco, il canterano classico, come si dice, la cantera. Perfetto, perfetto. Speriamo che torni quello di nuovo. Speriamo in bene. Allora.